Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio vedere come fare per impostare i tasti per il pit stop, come funziona, che cosa si può fare e cosa preparare prima della gara. Prima cosa andiamo su opzioni, opzioni comandi, assegna comandi e andiamo nella parte pit stop, questa qui che come state vedendo, come vi sto facendo vedere, è la parte dedicata a tutto quello che sono i pit stop e box. Adesso, siccome nel campionato che stiamo organizzando è obbligatorio, è importante che voi capiate come funziona. Allora, per chi lo sa, non lo guardate questo video, per chi non lo sa invece è importante perché ci sono due funzionalità. La prima è per quanto riguarda appunto la gestione dei box e la strategia dei box, che può essere cambiata in corso d'opera. E la seconda è il fatto che se prendete una penalità dovete scontarle, dovete dire al sistema, guarda che sto entrando per scontare la mia penalità, che sia essa un drive-thru o uno stop and go, bisogna selezionare nel menu, attenzione, sto scontando la mia penalità. Ora, non dovrebbe succedere visto le impostazioni, ma non si sa mai ragazzi, ve lo spiego che è importante. A questo punto qui bisogna impostare i propri tasti, come vedete io ho scelto quelli del mio volante, quindi il limitatore dei box, attiva e disattiva la richiesta dei pit stop, che è differente da attiva e disattiva il menu dei pit stop. Vi spiego la differenza. Attiva e disattiva la richiesta, vuol dire che io attivo e dico ragazzi sto per entrare il prossimo giro, oppure lascia attivo la finestra perché tra uno, due, tre giri sto per entrare. Se ripremete lo stesso pulsante, la disattivate, quindi i meccanici i box non vi aspettano, quindi sono impreparati, d'accordo? Quindi, e invece attiva e disattiva il menu dei pit stop e quella finestra che vi appare, d'accordo? Quando state correndo e dice cavolo mi devo fermare, attivo, mi voglio cambiare le gomme, voglio mettermi la benzina in base a un preset che adesso andremo a vedere, oppure in modo rischioso, normale, oppure sicuro. Dopodiché c'è la selezione del menu pit stop, che è quella che conferma quello che state selezionando, cioè io voglio mettere benzina in modo rischioso, metto rischioso e premo questo pulsante per convalidare. Poi c'è su, giù, aumenta e diminuisci, cioè su, giù è per scorrere su, verso su nel menu e giù per andare giù, come vi sto facendo vedere. Aumenta e diminuisci invece sarebbe una specie di destra e sinistra che vi fa scegliere se mettere le prime piuttosto che altre gomme, oppure aumentare o diminuire la benzina. Questa roba è qua, d'accordo? Fatto questo, torniamo indietro, prima della gara bisogna pensare di fare un preset di, appunto, pit stop. In questo caso io non ne ho, metto crea nuovo, faccio nome, che ne so, siamo a Austria, metto strategia 1 e faccio crea. A questo punto qui, dico, mi aggiungi benzina sicuro, normale o rischioso, in base a quanto partirete con la benzina, se voi avete bisogno di 240 litri, vi dico una fesseria, partite con 120 e dovete fare un pit stop, Allora, dici, io mi metto in modo sicuro, le gomme sono le prime, il danno me lo riparo, sì o no, davanti e dietro, magari dico no, lo lascio attivo e vado indietro. Quindi, la preimpostazione, il preset, vi dirà durante la gara, guarda che tu hai preselezionato questo, durante la gara si può anche cambiare, ragazzi, eh. Quindi, andiamo a vedere, quindi io vado direttamente alla gara, così vi faccio vedere il funzionamento, in base ai tassi che ho scelto, sembrano scontate certe cose, ragazzi, però è bene farlo, perché altrimenti vi trovate impreparati, ma io non ho fatto, non ho detto, non sono riuscito, invece io vi faccio vedere proprio come si fa, così togliamo ogni dubbio. Allora, io ho messo il mio preset, sì, indietro, gareggia, sono da solo ovviamente, e vi faccio vedere subito, sentite questo rumore, questo è l'attivazione del pit stop, quindi andiamo avanti. Allora, questo è il menu del pit stop. Allora, aggiungi, vedete come posso fare normale, rischioso, oppure i litri che voglio, perché posso calcolarmelo. Sopra posso, non ho un solo preset, quindi, che c'è scritto Austria, quindi non posso andare a selezionare altri, però posso andare a cambiare. Va con valido, rischioso, le gomme, per forza di cose devo mettere le prime, e ho confermato, quindi adesso per togliere il menu, ripremo il pulsante del menu. Però, se io volessi dire, ma non mi voglio fermare questo giro, oppure lo voglio disattivare, ripremo quello di attivazione e disattivazione del pit stop. Però, se cambio ancora idea, me lo attivo e chiudo. Ogni volta che lo riattivate, vi riproporrà sempre il menu, perché magari se vuoi cambiare qualcosa, e quindi per convalidarlo, bisogna richiudere il menu. In questo caso, come so che è attivato, a parte il sound che ha fatto particolare, sulla destra, vedete, sul mio specchietto destro c'è scritto, attenzione, pit stop attivo, quindi occhio che i meccanici ti stanno aspettando. Normalmente c'è una finestra dei pit stop che si attiva, in base alla lunghezza della gara, in questo caso, come vedrete, mi indicherà che sto andando troppo veloce, anzi no, non me lo dici perché non so entrare in corsia. Che si attiva, che è lì che è obbligatorio entrare in box e fare il pit stop. Se fate fuori da questa finestra, potete farlo, però non viene considerato calcolato come pit stop obbligatorio. Quindi fate attenzione alla finestra dei pit stop perché è importante. Uno si può fermare quante volte vuole, ma almeno una volta bisogna fermarsi nella finestra dei pit stop. Adesso dovrebbe essere in questo giro nel prossimo. Eccolo qua, apre fra un minuto, quindi se io lo faccio adesso, mi fa il pit stop tranquillamente, ma non me lo canterà nella finestra dei pit stop. Quindi se finisco senza aver fatto la fermata ai pit stop, nella finestra indicata mi squalifica. Quindi vediamo se riusciamo a farlo in questo minuto. La finestra dei pit stop normalmente dura dai 3 ai 5-10 minuti, dipende sempre dalla lunghezza mi pare della gara. E quando chiude è finito, eh. Attenzione, speed limit, 80 km orari. Fino al... Speed limiter. E qui bisogna aspettare. Come vedete esegui penalità sotto Austria. C'è scritto no perché non sto facendo una penalità. Nel caso dovessi eseguire una penalità dovrei mettere sì, ovviamente. Quindi qui aspettiamo. Fa rifornimento. Spegna automaticamente il motore. Ve lo riaccenderà. Cambio pneumatici. Via. 8 secondi al set, ragazzi. Ecco qua ragazzi. Ultima cosa, mi raccomando. Quando uscite dai box, sempre seguire la linea, guardare se c'è qualcuno che arriva e poi si lancia. Come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto un pollice in su, non esitate a lasciare un commento. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo. Da Fabrice tutto. Ciao! Ciao!